Ancora questa suggestiva inquadratura da dietro la porta, Cabrini, Boniek, Platinini ai pressi del pallone, anche Vignola in posizione di tiro, prova Boniek. E' fortissimo, sciolta sul tiro di Scirea, c'è un rimpallo, Rossi di sinistro, mette dentro, 2-1 per la Juve, indescrivibile entusiasmo sugli spalti. Ancora vediamo, vedete che dopo una serie di rimpalli c'è Scirea, perpetua un dribbling, va al tiro, c'è un rimpallo sul corpo di Albinston, il tocco vincente del solito rapinatore Paolo Rossi. Tripudio in campo, si gioca ora qualche scampolo di partita, attenzione, pericolosissimo in avanti, il Manchester guadagna ancora un angolo. Siamo al 46esimo minuto del secondo tempo, la Juve conduce per 2-0 ma non è ancora finita, Ray Wilkins va... 2-1 scusate, ecco che Wilkins va a battere dalla bandierina. Tutti nell'area ora della Juve e il pallone viene allontanato ma...